La vocazione risponde alla domanda chi sono, è il verbo essere, non il verbo fare. In questo senso nessuno di noi può prescindere dalla parola vocazione, perché tutti noi vorremmo sapere chi siamo, prima ancora di sapere che cosa dovremmo fare nella vita, tutti noi vogliamo scoprire chi siamo davvero. Quindi la domanda vocazionale è una domanda sulla nostra identità. Una persona che si fa una domanda vocazionale si sta domandando non che cosa deve fare nella vita, ma chi è lui e chi è lui in questa vita che gli è data. Soltanto che per scoprire chi siamo noi dobbiamo fare qualcosa, cioè l'uomo si rivela quando fa qualcosa. In generale quando un uomo ama emerge nella sua identità più profonda. Ama un lavoro, ama una donna, ama un ministero, ama una missione. Nell'atto di amare emerge la sua vera identità. Quindi io credo che tutti noi prima o poi dobbiamo scontrarci in maniera decisiva con la parola vocazione, perché finché noi fuggiamo la parola vocazione passiamo la vita tentando di fare delle cose, ma eludiamo la più grande domanda. Chi sei tu? Chi sei? Ecco questa è la domanda vocazionale. E poi il discernimento io credo che sia assolutamente prezioso perché in fondo il discernimento non è semplicemente capire ciò che è bene, ciò che è male, è capire qual è il bene come volontà di Dio, non semplicemente il bene, perché tante cose sono buone. Dobbiamo domandarci se quelle cose poi sono la volontà di Dio effettivamente dentro la nostra vita. Ecco qui c'è il cosiddetto secondo fraintendimento. La gente ha paura, i nostri giovani a volte hanno paura di farsi questa domanda vocazionale perché pensano che i progetti di Dio vanno a scontrarsi contro i nostri progetti. Ad esempio io voglio fare qualcosa e Dio no, adesso tu fai la suora, no, adesso tu ti devi sposare per forza, adesso tu devi fare il prete. Come se c'è una sorta di concorrenza tra i progetti di Dio e i nostri desideri. Sant'Agostino e dopo di lui, non lo so, Sant'Ignazio, hanno detto qualcosa che è assolutamente geniale. Cioè se tu vuoi capire la volontà di Dio, se tu vuoi capire Dio dentro la tua vita, il primo luogo da cui devi partire sono i tuoi desideri. Cioè il tuo desiderio è il primo luogo dove si manifesta la volontà di Dio. Quindi Dio non è contro noi stessi, non è contro il nostro desiderio più profondo. È il primo alleato perché è lui che ci ha messo nel cuore questo desiderio. Ciò che a volte noi dobbiamo rinunciare è l'immaginario che abbiamo costruito attorno ai nostri desideri. Quello molto spesso Dio lo frantuma, ma lo fa appositamente per realizzare il vero desiderio che c'è nel nostro cuore. Quindi dovremmo smettere di vivere in difensiva nei confronti di Dio, cioè pensando che sia un nostro antagonista o sia una persona che lavora non a nostro favore e che noi siamo dei serbi che devono, non lo so, eseguire un copione scritto da lui e quindi dobbiamo rinunciare alla nostra libertà, alla nostra realizzazione. L'unica cosa che dà gloria a Dio è la nostra gioia. Se tu sei nella gioia, questa cosa dà gloria a Dio. Ecco, quindi è lì che dovremmo rimettere il nostro sguardo e rimettere a fuoco.